Siamo rimasti delusi soprattutto dalla replica, in realtà durante il dibattito avevamo invitato il Presidente della Giunta regionale a fornirci gli obiettivi per esempio dei primi 100 giorni di governo. Avevamo intuito anche nel primo consiglio, quando ha illustrato il programma, ci fosse una certa estranetà nella composizione della Giunta, subiti i diktat dei tre segretari, e nell'esposizione del programma un elenco, anche un libro dei sogni, ma un pochino piatto, senza un elenco in realtà di priorità. Ecco, avevamo invitato in questa occasione a potercele individuare, a poterci fornire uno strumento di valutazione per i primi 100 giorni di governo, su quelle che potevano essere le scelte strategiche, le prime vere scelte su argomenti quali la sanità, l'agricoltura, le infrastrutture, la ricostruzione. In realtà non c'è stata una replica che ha voluto prendersi in carico la possibilità di indicare al Consiglio, anche sul suo invito, e in questo caso dalle forze dell'opposizione del Partito Democratico, la possibilità appunto di dirci quali potevano essere gli obiettivi dei primi 100 giorni di governo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.